ciao a tutti oggi cominciamo un secondo esercizio del corso di after effects e di nuovo applicheremo tutte le cose imparate fino a qua vi faccio vedere il filmato finale che completeremo durante l'esercizio ecco fatto questo è ciò che realizzeremo da qui alla fine dell'esercizio naturalmente è tanta roba e non la faremo in un'unica lezione ma probabilmente la divideremo in tre quattro lezioni incomincio a dirvi per correttezza che questo filmato non l'ho ideato io mi sono liberamente ispirato a un progetto di after effects che in vendita sul sito di video vi faccio vedere rapidamente dove lo potete trovare nel caso vi interessasse acquistarlo eccolo qua beautiful day è molto più lungo e complesso del filmato che vi ho appena fatto vedere e poi anche i disegni non sono proprio quelli sono sono altri comunque torniamo ad after effects riguardiamo un attimo lentamente il filmato com'è strutturato è strutturato per scene o per quadri animati vi faccio vedere il filmato lentamente questo è il primo quadro la prima scena diciamo così dove ci sono un po di disegni con le loro animazioni c'è un aeroplano che passa con una scritta poi questa scena termina e ne comincia una seconda dove ci sono altri disegni altre animazioni poi anche questa scena termina e ne comincia una terza l'ultima con altri disegni ancora sono tre scene separate da delle transizioni che adesso vi faccio rivedere eccola qua questo passaggio dalla scena 1 la scena 2 avviene con una classica tendina a salire che è nascosta da queste tre nuvole e allo stesso modo si passa dalla scena 2 alla scena 3 con un elemento grafico che nasconde la tendina cioè in questo caso è questo disegno di un pesce ok diciamo che le lezioni le dividiamo così nella prima lezione costruiremo questa prima scena qua poi nella seconda parte dell'esercizio faremo la seconda scena tutta questa nella terza parte faremo la terza scena questa e nella quarta parte assembleremo tutte quante le scene creando queste transizioni che le separano ok quindi incominciamo con la prima scena questa qua innanzitutto in questo progetto non ho ancora importato gli elementi che mi servono quindi la prima cosa che faremo è importarli se anche voi volete fare esercizio insieme a me dovete scaricare dal link che trovate sotto il video il materiale che poi useremo nel progetto quindi una volta scaricato mi raccomando mettetelo vicino al progetto che avete creato e poi insieme con me importatevi i disegni quindi per importare qualcosa in after effects sappiamo benissimo che si fa doppio clic qui nella finestra del progetto allora in questo caso dovreste avere una cartella che contiene tutti questi disegni qui vi dico subito che alcuni di questi disegni sono strutturati a livelli quindi durante l'importazione devo fare in modo che questi livelli rimangano separati perché poi dovrò fare delle animazioni particolari sui sui vari livelli quindi incominciamo col importare il gruppo di questi disegni che sono strutturati a più livelli vi dico subito che sono l'aereo poi control clicco sulla barca per selezionarli contemporaneamente tutti poi la farfalla il girasole la mongolfiera la nuvola il sole e il trattore ecco tutti questi elementi selezionati contengono più di un livello per cui durante l'importazione qua sotto devo specificare composition retain layer sizes quindi una volta fatto questo clicco il tasto open o import e mi trovo ecco qua tutti quei disegni lì che appaiono qui sotto forma di composizione poi non mi fermo qui doppio clic di nuovo adesso importo gli altri elementi che invece sono dei disegni ad un unico livello quindi questi sono l'auto arancione la casa il faro il fiore il pesce ecco questi qui so che sono d'un un unico livello quindi non specifico qua composition retain layer size lascio footage e importo benissimo ora prendo tutti questi elementi nella finestra di progetto inserisco l'interno di una cartella quindi li trascino tutti quanti insieme sopra l'icona della cartella qui e rinomino questa cartella disegni così abbiamo tutto il materiale organizzato in un'unica cartella benissimo adesso la prima cosa che faccio è creare una composizione per la scena numero 1 so che tutte le scene tutti i quadri animati durano 10 secondi l'una per cui adesso crea una composizione quindi composition new composition la chiamo proprio scena 1 scena la dimensione mettiamo il solito nostro preset hdtv 1080 25 e come durata 10 secondi qui in duration e come sfondo nero benissimo mettiamo come rappresentazione dello sfondo la scacchiera bianca e grigia quindi clicco qui in basso benissimo se la composizione scena 1 vi è finita dentro la cartella disegni come nel mio caso facciamo in modo di spostarla fuori dalla cartella e non solo creiamo anche una cartella nuova apposta per contenere tutte le scene oggi facciamo solo la scena 1 ma poi nelle prossime lezioni faremo anche scena 2 scena 3 quindi questa cartella la nomino scene appunto il contenitore di tutte le composizioni scene e ci metto dentro la composizione scena 1 benissimo ora vediamo cosa dobbiamo aggiungere all'interno di scena 1 rivediamo un attimo il filmato ecco la primissima cosa da aggiungere sullo sfondo è questo rettangolo azzurro sfumato da chiaro a scuro quindi sappiamo che per creare un rettangolo con colorazione sfumatura radiale come è qui devo prendere lo strumento rettangolo qui sopra e farci doppio click e poi andremo a cambiare il colore quindi doppio click e abbiamo un rettangolo al momento è bianco perché la colorazione qui fill è bianco tinta unita ma noi cambiamo subito e quindi andiamo là dove c'è la voce fill apro le opzioni di colorazione scelgo la quarta radial do l'ok ho questi due colori che sono rimasti nell'ultima volta che l'ho usato ma io subito vado nella palette dei colori e so che voglio un azzurro molto molto chiaro quasi bianco e un secondo colore ecco qui azzurro sì non troppo forte direi una cosa così benissimo do l'ok appena terminato dovrei vedere queste maniglie ok se per caso non le vedete selezionate nella timeline il contenitore rectangle one prendete queste maniglie e tirate la modo tale da avere la sfumatura della lunghezza che volete voi io direi di prendere anche il centro della sfumatura e spostarlo un po di lato a sinistra ok io direi che questa sfumatura va bene così subito rinomino nella timeline questo shape layer quindi lo seleziono tasto invio lo chiamo cielo benissimo e siccome questo è un elemento che sta sullo sfondo non ha animazioni e non deve essere più spostato da dove si trova la prima cosa che faccio subito è mettergli un looketto quindi nella timeline a sinistra del nome attivo il looketto modo che non è più selezionabile benissimo andiamo a vedere qual è il secondo elemento da aggiungere in scena ok prima di aggiungere i tre disegni quale nuvole e sole c'è da aggiungere un elemento questo qui che sono dei raggi bianchi che partono dal centro e si irraggiano e che si allargano solo che tra i disegni importati questo elemento grafico non c'è dobbiamo crearlo con degli effetti nella lezione sul livello solido vi ho spiegato perché per creare qualcosa a partire da degli effetti è meglio usare un livello solido appunto quindi adesso andiamo ad aggiungere un livello solido nella timeline e si fa così si va nel menu layer new solid lo voglio grande come la composizione quindi make comp size già che so che cosa devo creare gli do un nome appropriato lo chiamo raggi ho visto che i raggi sono di colore bianco quindi anche come colore del solido apro la palette gli do il bianco benissimo ho un rettangolo bianco per creare quei raggi devo applicare due effetti il primo mi serve per creare delle strisce verticali e poi un secondo effetto mi servirà per farle convergere verso il centro incominciamo dal primo effetto seleziono i raggi vado nel menu effect e questo effetto sta nella famiglia transition e si chiama venetian blinds le tendine veneziane attivo aumentando il valore transition complexion si vede che il solido comincia a ridursi a strisce però lo spessore di queste strisce è un po troppo sottile quindi vado nella proprietà width larghezza e aumento la larghezza di queste strisce potrebbe bastare una cosa così riaggiusto ancora la complexion benissimo poi aggiungiamo un secondo effetto che fa in modo di far convergere tutte queste linee verso il centro le polarizza in questo caso si dice verso il centro quindi menu effetti in questo caso sta nella famiglia distort l'effetto che serve a me e si chiama polar coordinates e questo effetto un unico parametro devo soltanto aumentare al cento per cento il valore interpolation la proprietà interpolation ma come vedete non è quello che intendevo ottenere dovete anche cambiare il tipo di conversione da rettangolare a polare quindi rect to polar anziché polar to rect come vedete adesso quelle strisce sono state risucchiate verso il centro solo che tutto il solido si è ridotto perché questo effetto ha ridotto la dimensione dell'originale quindi adesso noi innanzitutto vediamo di aggiustare la larghezza delle tendine veneziane in modo da avere una quantità sufficiente di raggi ok direi così e poi aumentiamo la grandezza la scala quindi selezioni raggi clicco s per evidenziare la scala e aumento la scala in modo che i raggi arrivino fino al limite della composizione bene nel filmato ecco i raggi si vedono appena appena quindi significa che l'opacità dei raggi di nuovo seleziono i raggi shift t per vedere anche la proprietà opacità e abbasso questa proprietà in modo da avere si raggi ma non troppo forti mischiati con l'azzurro del cielo benissimo c'è un'animazione da fare su questi raggi al tempo zero non si vedono e dopo circa mezzo secondo avete visto si ingrandiscono quindi semplicissimo al tempo zero alla scala dal valore zero invio accendo l'orologio della scala e circa mezzo secondo dopo quindi a 12 13 frame aumento la scala in modo tale che i raggi riempiano l'inquadratura direi di non metterly sees faccio una preview avanzo qui tasto n si può essere anche un filo più lento quindi allontano i keyframe benissimo guardate a metà strada come sono ben definiti questi raggi qua mentre invece nel filmato sono un po sfumati perché sono sfumati perché noi adesso attiviamo la sfocatura di movimento bisogna attivarla nella composizione cliccando questo pulsante qua la pallina con la scia e questa attiva in tutta la composizione e poi se voglio attivarla anche sui raggi accendo il bottone personale dei raggi motion blur adesso vedete che c'è la sfumatura in mentre si ingrandiscono rapidamente c'è la sfocatura di movimento abbassiamo anche la risoluzione della composizione così quando facciamo le preview dovremo attendere meno per avere il render quindi abbasso da full a half la risoluzione a metà bene andiamo avanti il prossimo elemento che entra in scena è questa nuvola poi il sole poi un'altra nuvola la nuvola è uno di quegli elementi torniamo nella finestra progetto vado a cercarla nei disegni non è un disegno semplice a un livello unico ma è una composizione che contiene più livelli eccola qua nuvola doppio clic la apro perché è una composizione per vedere com'è fatta a sette livelli mettiamo anche lo sfondo nero per vederla meglio perché sono tutti i livelli bianchi ecco qua ma vi faccio notare il motivo per cui ho sette livelli e non un unico disegno perché ogni pezzo di questa nuvola guardate bene vedete ha un movimento a sé si vede bene quindi ognuno di questi livelli qui adesso per farveli vedere meglio li spengo tutti e ne accendo uno alla volta ecco qua sono praticamente degli ellissi tengo acceso solo il primo adesso ognuno di questi elementi qua voglio che si ingrandisca si rimpicciolisca così a caso per tutta la durata della composizione quindi devo lavorare sulla scala s voglio che ogni secondo circa questo ellisse cambi forma a volte diventi un po più grande a volte un po più piccolo ma a caso e voglio farlo rapidamente senza mettere io a mano tutti i dieci keyframe per fare questo ci facciamo aiutare da questa palette qua che io ho già aperta si chiama effetto vibrazione ho fatto un tutorial a parte rispetto al corso dedicato a questa palette e vi consiglio di guardare il tutorial e di scaricare questa palette e installarla nel vostro after effects perché questa ci velocizza di molto il lavoro quando dobbiamo fare delle animazioni un po casuali e ripetitive come in questo caso quindi dopo che l'avete installata apritela dal menu window la troverete qua effetto vibrazione e poi una volta aperta adesso vediamo come farla funzionare nel nostro caso allora la scala ha due dimensioni la scala x e la scala y ha due numeri che la controllano quindi numero dimensioni lascio due voglio che la scala aumenti diminuisca uniformemente la larghezza e l'altezza quindi devo anche accendere questo pulsante qua uniforme poi voglio che ogni secondo cambi grandezza quindi vibrazioni al secondo 1 va benissimo quindi il valore 1 che è già impostato va bene così l'ampiezza dice 50 significa che se lasciassi quel valore lì l'ellisse si ingrandirebbe o si impicciolerebbe del 50 per cento della sua grandezza perché la scala si misura in percentuali che mi sembra un po' troppo io abbasserei questo valore al 10 per cento bene quindi i valori da impostare sono pronti adesso devo applicarli alla proprietà scala quindi devo selezionare nella timeline la proprietà scala e cliccare sul bottone applica i numeri da azzurri sono diventati rossi il che significa che è stata scritta un'espressione sulla scala e adesso faccio una preview di qualche secondo per vedere se la velocità dell'animazione va bene e appena appena accennata avete che l'ellisse si ingrandisce si rimpicciolisce a caso ogni secondo a volte più grande a volte più piccolo ma non supererà mai il 10 per cento della sua grandezza bene quindi una volta che ho trovato i valori giusti per l'effetto vibrazione di 1 questi valori qui vanno bene anche per tutti gli altri ellissi quindi non devo fare altro che riaccenderli tutti e seleziono tutti clicco il tasto s per aprire la proprietà scala quindi selezionate di nuovo tutte le proprietà scala di nuovo cliccate su applica adesso tutti i numeri sono rossi ognuno di questi ellissi avrà un'animazione random casuale diversa dagli altri vediamo benissimo ed ecco qua che rapidissimamente abbiamo creato un'animazione molto complessa sette livelli che si muovono ognuno per i fatti suoi senza bisogno di keyframe bene adesso che questi ellissi si ingrandiscono e si rimpiccioliscono a volte lo si vede per esempio qua escono dalla composizione perché la composizione aveva una grandezza precisa rispetto al disegno originale che era statico ma adesso che si muove non lo contiene più bene quindi la prima cosa da fare è modificare la dimensione di questa composizione e come si fa si va nel menu composition composition settings vedete qui questa era la larghezza e l'altezza di quella composizione 587 353 non facciamo altro che aumentarla anche a casaccio quindi clicco trascino e vedete che automaticamente aumentata abbondo un po e abbondo un po anche in altezza adesso ho spazio a sufficienza diamo un'occhiata anche alla durata 10 secondi perché questa durata non l'avevamo stabilita noi in automatico era stata creata durante l'importazione in questo caso particolare va benissimo perché la durata di questa nuvola deve essere uguale la durata della composizione che la contiene c'è la scena 1 che è 10 secondi quindi va benissimo i settings vanno bene così do l'ok adesso non mi fermo qui perché andiamo a vedere un attimo le nuvole che ci servono nel nostro progetto sono tutte nuvole azzurre sia in questa scena sia nella scena successiva e sia nell'ultima scena e non solo sono azzurre e tutte quante hanno anche un'ombra quindi sarebbe bene fare in modo che già all'interno di questa composizione la nuvola fosse già colorata correttamente e avesse già l'ombra quindi ho bisogno proprio di un effetto che colora le cose in questo modo con una sfumatura ma devo fare in modo che questo effetto venga applicato contemporaneamente a tutti quanti i livelli noi sappiamo da una lezione del corso che esistono i livelli di aggiustamento che servono appunto a quello applicarci effetti quali poi vengono trasferiti ai tutti i livelli sottostanti in un colpo solo quindi aggiungiamo un livello d'aggiustamento vado nel menu layer new adjustment layer a me il livello d'aggiustamento si è infilato in mezzo ai vari livelli quindi lo prendo e lo trascino lo sposto su in cima e a questo livello d'aggiustamento metto l'effetto che colorerà tutti quanti i livelli sottostanti quindi seleziono adjustment layer vado nel menu effetti in questo caso l'effetto che mi serve sta nella famiglia generate e si chiama gradient ramp il gradient ramp è appunto la colorazione sfumata che al momento è impostata attenzione linear ramp cioè la sfumatura lineare ma io voglio la sfumatura radiale dal centro verso l'esterno quindi innanzitutto do come forma della sfumatura anziché linea radial qui benissimo poi voglio che il centro lo start di questa sfumatura sia qui al centro della nuvola e come faccio vengo qui nei controlli dell'effetto dove c'è scritto start of ramp clicco sul bottone questo mirino qua prendo quel bottone e vengo qui dove c'è il centro della nuvola e clicco e assegno il centro della sfumatura qua al momento il colore è nero poi prendo il colore di periferia land of ramp clicco su quel mirino e lo metto più o meno qua bene ma io voglio che il centro sia appunto bianco quindi start color clicco qui bianco e end color apro la palette e do l'azzurro direi che così va bene ecco la nuvola azzurra adesso posso far tornare lo sfondo a scacchiera e non solo voglio anche che ci sia un'ombra quindi vado di nuovo nel menu effetti effect perspective drop shadow questo è un effetto che dovremmo conoscere abbastanza bene l'ombra subito è nella direzione giusta direi la vorrei un pochino più distante aumento la distanza è un po meno forte di quello che è a basso l'opacità tipo così direi che ci siamo abbiamo una nuvola azzurra con l'ombra il livello d'aggiustamento se vogliamo possiamo rinominarlo per far capire che tipo di effetti ci sono sopra quindi lo seleziono tasto invio lo potrei chiamare sfumatura più ombra bene prima di proseguire mi fermo un secondo perché vorrei fare una piccola parentesi sui file vettoriali non ve l'ho mai fatto vedere fino qua e quindi ne approfitto adesso ognuno di questi ellissi è un disegno di illustrator quindi so che è vettoriale che significa essere vettoriale seleziono uno di questi livelli è per esempio il primo questo qua guardate cosa succede quando ingrandisco tantissimo la scala lo sposto per farvi vedere il contorno eccolo qua vedete il contorno che non è più così ben definito come lo era prima mentre invece siccome il disegno è vettoriale non dovrebbe comportarsi così dovrei anche dopo che l'ho ingrandito tanto tantissimo dovrei sempre vedere il contorno ben definito ok per fare in modo che questa caratteristica vettoriale rimanga anche dopo che i livelli sono stati importati in after effects devo accendere questo bottone qua quello col cerchio coi puntini intorno che avevamo visto nella lezione sul livello solido adesso lo accendo per il layer numero 3 avete visto che appena l'ho acceso il contorno di questo ellisse è tornato perfetto ben definito e potrei continuare a ingrandirlo all'infinito e non perderebbe mai di definizione per cui se vogliamo mantenere questa caratteristica per cui i livelli possono essere ingranditi all'infinito senza che perdano definizione dobbiamo accendere questi pulsanti quindi per questi livelli direi di farlo e adesso però devo rimettere a posto questo livello quindi lo riduco e lo vado a mettere al suo posto più o meno dovrebbe essere così perfetto e adesso torno nella timeline a guardare la scena 1 quindi riattivo la scena 1 e prendo la nuvola e la aggiungo nella composizione scena 1 la riduco un po a mano la metto qui sulla sinistra ecco mi serve più meno qua che tipo di animazione a questa nuvola andiamo a vedere ha un animazione ecco sulla scala anche lei parte scala 0 e una decina di frame si ingrandisce poi a quel rimbalzo che noi creeremo usando un'altra palette la palette effetto molla che vi consiglio di scaricare di vedere anche come funziona guardando il mio tutorial sull'effetto molla seleziono la nuvola nella timeline clicco tasto s per evidenziare la scala e la nuvola deve cominciare anche lei l'ingrandimento al tempo 0 quindi al tempo 0 la scala della nuvola è 0 accendo l'orologio e facciamo dopo una decina di frame circa la nuvola è grande più o meno così ok la velocità va abbastanza bene ma voglio che adesso una volta ingrandita prosegua ancora un po a rimbalzare avanti indietro e per fare ciò ci facciamo aiutare da questa palette effetto molla vi consiglio di scaricarla e per farla funzionare non dovete fare altro che selezionare la proprietà scala e cliccare il bottone applica effetto molla i numeri diventano rossi il che significa che ha preso l'espressione che la fa funzionare in quel modo faccio una preview e infatti ecco la nuvola che si ingrandisce con l'effetto molla benissimo il prossimo elemento è il sole anche lui si ingrandisce con l'effetto molla il sole ha i raggi che girano quindi anche il sole se andiamo a cercarlo nella finestra di progetto è una composizione è stato importato con i livelli separati quindi doppio clic per aprirlo eccolo qua ha due livelli per l'appunto i raggi e il viso la faccia in questo caso i livelli sono due perché io devo fare ruotare lentamente i raggi per tutta quanta la durata della composizione bene prima di proseguire subito accendiamo i due pulsanti che mantengono la caratteristica vettoriale dei disegni eccoli qua allora sui raggi clicco il tasto r perché devo lavorare sulla rotation qui siccome l'animazione sulla rotazione è costante dall'inizio fino alla fine devo mettere due keyframe uno all'inizio e uno alla fine quindi accendo l'orologio di rotation al tempo 0 e lascio i gradi a 0 prendo il cursore lo sposto in fondo e qui faccio in modo che dopo 10 secondi per esempio il sole abbia fatto un giro completo quindi per fare un giro completo basta che metto il primo numero a 1 che significa un giro completo e 0 gradi facciamo una preview vedete in 10 secondi fa un giro completo e come velocità di rotazione mi sembra buona perfetto guardiamo attentamente se la composizione contiene bene i raggi del sole direi di no in questo caso qui una punta dei raggi esce dall'inquadratura quindi per sincerarci che rimanga dentro aumentiamo la dimensione della composizione quindi composition, composition settings aumento l'altezza perfetto adesso sicuramente ci sta dentro durata 10 secondi benissimo anche qui ho bisogno di mettere un'ombra al sole perché in tutte le scene il sole ha sempre l'ombra sia qui sia qui sia qui sia qui quindi l'ombra ha tutti e due i livelli sia i raggi sia la faccia quindi anche qui layer new adjustment in modo tale che questo livello d'aggiustamento avrà l'ombra e l'ombra verrà applicata a tutti e due i livelli sottostanti rinomino subito questo livello d'aggiustamento ombra e gli applico l'effetto ombra quindi effect perspective drop shadow aggiusto anche qui un po' la distanza e anche l'opacità un po' bassa benissimo direi che ci siamo perfetto torniamo alla scena 1 quindi riattivo la scena 1 prendo dalla finestra progetto il sole e lo aggiungo qua ok allora anche lui ha un ingrandimento in circa 10 frame e parte da scala 0 però no attenzione guardiamo il filmato non parte insieme alla nuvola prima parte la nuvola e qualche frame dopo parte il sole e qualche frame dopo partirà anche la seconda nuvola per cui incominciamo a prendere il cursore del tempo nella timeline e a metterlo non al tempo 0 ma facciamo 4-5 frame quindi un po' più tardi rispetto alla partenza della nuvola in questo momento seleziono il sole e tasto s per evidenziare la scala e metto la scala a 0 accendo l'orologio e anche lui dopo circa una decina di frame quindi più o meno qua la distanza che c'è tra il keyframe della nuvola e il keyframe del sole più o meno uguale e ingrandisco il sole più o meno così bene anche al sole metto l'effetto molla rapidamente quindi seleziono la proprietà scale vado nella paletta effetto molla e clicco il bottone applica effetto molla i numeri sono rossi faccio partire la preview infatti nuvola sole nuvola e poi sole bene adesso ho bisogno di una seconda nuvola qua dietro il sole sulla destra che abbia lo stesso ingrandimento della prima nuvola quindi visto che la prima nuvola ha già l'ingrandimento se io la duplico e la seleziono edit duplicate ecco qua ho una copia della prima nuvola con già l'animazione sulla scala non devo fare altro che spostarla nella nuova posizione cioè qui in alto sulla destra adesso però devo vedere quando comincia l'animazione non comincia insieme alla prima nuvola ma dopo che è partito il sole quindi che faccio prendo la seconda nuvola nella timeline e la sposto più avanti in modo tale che l'inizio se clicco il tasto U per vedere i keyframe sulla scala ecco qua vedete che comincia quando l'animazione del sole è circa a metà quindi prima nuvola 1 poi il sole poi la nuvola 2 vediamo se è vero faccio una preview solo una cosa la nuvola numero 2 non deve terminare con la stessa scala della numero 1 quale delle due più grande ecco la nuvola numero 2 dovrebbe rimanere più grande quindi che devo fare devo correggere il keyframe finale quindi clicco sul tasto destro sul secondo keyframe e go to keyframe time in modo che il cursore vada proprio sopra quel keyframe e adesso correggo la grandezza finale la faccio un po' più grande in modo che non sia uguale alla prima e poi la sposto anche un po' più in basso così direi rivediamo il tutto perfetto quindi i primi tre elementi sono stati creati e sono a posto ora una cosa prima di proseguire il sole dal tempo zero fino a quando non comincia l'animazione cioè fino qui non si vede non esiste per cui posso trimmare tutti questi frame cioè elimino i frame iniziali fino al primo keyframe per rendere più evidente anche a occhio quando il sole comincia la propria animazione bene ora l'ultimo elemento di questa scena che è l'aeroplano che passa con lo striscione con la scritta motion graphics e lo striscione ha anche una oscillazione come se sventolasse al vento e c'è l'elica dell'aeroplano che ruota vorticosamente quindi andiamo a cercare la composizione aeroplano eccolo qui è una composizione quindi la apro nella timeline doppio clic e infatti contiene l'elica l'aeroplano e separatamente lo striscione cominciamo a preoccuparci dell'elica innanzitutto voglio che l'elica ruoti vorticosamente per tutta quanta la durata della composizione quindi come per i raggi del sole anche qui abbiamo bisogno di due keyframe sulla rotazione quindi seleziono l'elica tasto r e adesso farò l'animazione però andiamo a verificare dove si trova l'anchor point dell'elica perché se l'anchor point non è al centro dell'elica dopo l'elica non gira correttamente quindi facciamo in modo che l'anchor point si metta proprio al centro di questo disegno dell'elica al momento l'anchor point è al centro del contenitore del disegno infatti quindi non mi posso far aiutare dalla solita palette move anchor point ma devo prendere lo strumento apposta per spostare gli anchor point che è questo qua e cerco di mettere il meglio che posso l'anchor point al centro dell'elica quindi mi avvicino più che posso e ok vediamo se funzionerà ora aggiungo i keyframe vado sulla rotation al tempo 0 accendo l'orologio dopo 10 secondi siccome deve ruotare molto rapidamente darò come rotazione finale facciamo 50 giri vediamo un po' facciamo una preview di qualche secondo per vedere se la velocità è corretta allora innanzitutto l'anchor point va bene perché vedo che l'elica non si muove in giro quindi va benissimo la velocità non riesco a giudicarla bene perché questo è uno di quei casi in cui ho bisogno di attivare il motion blur per vedere la sfocatura sul movimento come la vedrei del resto nella realtà quindi vado nella timeline accendo il pulsante motion blur della composition e anche quello dell'elica eccolo qua ecco appena attivo vedo già la sfocatura sul movimento e vediamo se mi può andar bene se volessi la sfumatura più lunga potrei aumentare il numero di giri vado in fondo correggo l'ultimo keyframe mettiamo 80 90 centi a questo punto direi che così va benissimo e così aumenta la sfocatura bene fermiamoci qua ora già che ci siamo aumentiamo le dimensioni della composizione perché già l'elica esce dall'inquadratura un po' mentre ruota ma poi sicuramente quando farò sventolare lo striscione qua dietro non ci sarà spazio per contenerlo nella composizione quindi composition, composition settings direi di aumentare sia la larghezza così direi che va bene ma soprattutto l'altezza perché tra un po' mi servirà bene ok adesso innanzitutto notiamo che non c'è la scritta c'è uno striscione e qui ci posso aggiungere io a mano la scritta che voglio quindi la prima cosa da fare è crearla e dobbiamo scrivere motion graphics benissimo quindi prendo lo strumento testo e scrivo motion a capo graphics prendo lo strumento selezione lo metto al posto giusto allora so che la fonte che io ho usato si chiama vi faccio vedere gic a byte se non l'avete probabilmente non l'avrete la potete scaricare gratuitamente vi faccio vedere dal sito da font ma vi lascio comunque il link sotto il video torniamo ad after effects ok questa è la scritta la faccio un po' più grande aumento magari un po' lo spazio fra le lettere così è più leggibile benissimo poi non le voglio bianche le lettere ma due tonalità di giallo diverse bene quindi doppio clic sul livello di testo in modo tale che si evidenzia seleziono motion e basta gli do un colore col contagocce campiono il colore aeroplano è un po' troppo forte magari un po' più sul giallo ecco così bene bene e poi anche graphics seleziono graphics e gli do un colore un po' più chiaro magari anche qui contagocce sul giallo troppo forte un po' più chiaro bene ci ho bisogno anche di un po' di ombra per staccare dalla bandiera quindi al livello di testo e aggiungo un effetto ombra quindi effect perspective drop shadow benissimo un po' troppo forte diminuiamo anche di parecchio l'ombra un po' più vicina un po' meno distante ok così va bene benissimo ora devo far oscillare lo striscione e il testo insieme in su e in giù come se sventolassero ok quindi innanzitutto prendo il livello di testo e lo metto sopra lo striscione in modo che siano vicini poi per simulare questa oscillazione praticamente a una distorsione sia sulla bandiera sia sul testo ho bisogno di un effetto e questo effetto deve applicarsi ad entrambi i livelli ok per cui di nuovo ci torna utile il livello di aggiustamento ma questa volta lo metteremo appena sopra questi due livelli qua in modo che agisca soltanto sullo striscione e il testo quindi vado nel menu layer new adjustment prendo il livello di aggiustamento attenzione questa volta lo sposto soltanto sopra lo striscione e il testo in modo che distorcerà soltanto quei due livelli ma non toccherà né l'aereo né l'elica bene al livello di aggiustamento lo seleziono applico un effetto di distorsione e cioè per la precisione distort la famiglia e cc bender allarghiamo un poco la composition allora come funziona questo effetto qua dobbiamo aumentare e diminuire il primo valore la mount però la direzione non è quella corretta perché perché dipende dai punti top e base incominciamo dal base clicco sul mirino che c'è qua e lo vado a mettere nella zona della bandiera dove non distorce cioè esattamente qui dove la bandiera si attacca all'aeroplano quindi clicco qua quindi in questo punto la bandiera non verrà distorta mentre per il top prendo il mirino del top e lo vado a mettere là nel punto in cui distorce la bandiera quindi direi qui all'estremità qui più o meno qua quindi quando adesso io aumento diminuisco la mount di questa distorsione la bandiera si distorce verso l'alto e verso il basso ma sta ferma qui nel punto dove rimane attaccata all'aeroplano bene io ho bisogno che si distorca un po' in su e un po' in giù abbastanza lentamente direi quindi durante i 10 secondi metteremo 3 o 4 keyframe incominciamo con la distorsione verso l'alto così bene adesso devo mettere dei keyframe alla proprietà amount dell'effetto di distorsione quindi per aprire l'effetto distorsione nella timeline il metodo più comodo è tasto destro su uno qualsiasi dei parametri e reveal in timeline in modo che istantaneamente mi si apre nella timeline avrei potuto anche aprire adjustment layer e cercare le sezioni effects e aprire ccbender ma così si fa prima bene al tempo zero voglio che il valore della distorsione amount sia così com'è in questo caso meno 15 quindi accendo l'orologio poi facciamo un paio di secondi dopo faccio una distorsione della parte opposta poi dopo altri due secondi circa la piego verso l'alto e via così una volta in su una volta in giù e poi andiamo alla fine quindi ne mettiamo un altro in fondo ancora verso l'alto magari ridistribuisco un po' i keyframe ecco fatto vediamo se la velocità è giusta si potrebbe andare solo una cosa i keyframe li voglio ammorbiditi in modo che quando cambia direzione rallenta e poi riparte quindi seleziono tutti i keyframe e per ammorbidirli scorciatoia F9 ecco fatto ok vediamo se per caso anche l'aeroplano ha l'ombra sì quindi anche qui devo mettere un'ombra a tutti i livelli sottostanti quindi ho di nuovo bisogno di un altro livello di aggiustamento quindi layer new adjustment eccolo qui e a questo ci applico l'effetto ombra effect perspective drop shadow aggiustiamo i soliti valori di distanza magari anche direzione e poi abbassiamo l'opacità ok visto che abbiamo due livelli di aggiustamento questo qui l'ultimo lo rinomino ombra l'altro invece quello per la distorsione lo chiamiamo diamogli il nome dell'effetto così sappiamo esattamente cosa contiene CC Bender l'altro ombra bene anche l'aeroplano il livello che contiene l'aeroplano è a posto adesso torniamo nella composizione finale scena 1 e facciamo l'animazione dell'aeroplano che passa quindi finestra progetto prendo l'aereo lo metto qui è un po' piccolo ingrandiamolo un po' vediamo che tipo di animazione ha parte fuori non subito all'inizio e circa ci impiega quasi tutta quanta la durata della composizione quindi lo facciamo partire a circa un secondo e lo facciamo uscire intorno ai 8-9 secondi bene allontano un po' prendo l'aereo position proprietà position e a un secondo metto l'aereo fuori a destra magari anche un po' più in basso accendo l'orologio e a circa 8-9 secondi qua prendo l'aereo e lo sposto tutto fuori a sinistra compresa la bandiera facciamo una preview per vedere se la velocità è giusta direi che ci siamo se vogliamo fargli fare una traiettoria un po' più curva magari a parabola così prendiamo le maniglie dei punti della posizione e pieghiamo la curva potremmo farla così spostare anche il punto un po' più in su e farlo salire verso l'alto anche quindi una cosa anche così vediamo si può essere interessante si nota poco siccome gli faccio fare un arco verso l'alto ecco magari più così siccome il percorso che fa è una curva verso l'alto bisogna che l'aeroplano si indirizzi automaticamente anche lui verso l'alto quindi seleziono l'aeroplano e sappiamo che per far ciò dobbiamo andare nel menu layer transform auto orient questa funzione automaticamente orienta l'oggetto lungo a direzione del suo tracciato di movimento quindi auto orient attivo orient a long path poi in questo caso specifico l'aeroplano si è ribaltato non importa devo riaggiustare la direzione iniziale di 180 gradi quindi seleziono aereo R rotation e correggo la direzione iniziale di 180 gradi perfetto direi che ci siamo si nota poco perché il percorso è quasi rettilineo ma comunque l'aeroplano piega verso l'alto quando sale verso sinistra bene direi che la scena 1 è completata e la prima parte dell'esercizio finisce qua nella seconda parte creeremo la scena 2 ok? quindi ciao e ci vediamo alla prossima